524.777,37 euro. Precisi al centesimo sono questi i soldi che il Comune di Cremona ha già restituito alla Regione Lombardia a saldo del contributo ottenuto per il bando relativo alla mobilità sostenibile, aperto nel 2012 e utilizzato per l'eliminazione dei passaggi a livello sulla linea ferroviaria Cremona-Mantova. La deribere dirigenziale che attesta l'avvenuto versamento è stata firmata dal Direttore del Settore Economico-Finanziario, Paolo Viani, il 28 novembre. Si tratta dei soldi richiesti indietro dal Pirellone per la modifica del progetto che riguardava il sottopasso di Via Brescia. La copertura finanziaria è stata trovata mettendo mano per 400.000 euro ai fondi destinati alla manutenzione straordinaria a strade e agli inazioni patrimoniali e per i restanti 124.000 euro ad un fondo specifico per la sistemazione dei passaggi a livello.